Ciao a tutti ragazzi, mi presento, sono Michele Piacampo, ho 20 anni e da un po' di tempo, 15 giorni circa, ho deciso di cambiare la mia vita che era costituita principalmente da 8 ore di lavoro tutti i giorni in fabbrica, sveglia alle 4 di mattina, sveglia alle 9 di sera perché si attaccava a quell'ora e si staccava alle 5 del giorno dopo, sveglia a mezzogiorno perché attaccavi all'uno e staccavi alle 9, cioè praticamente avevo 3 turni e non avevo uno stile di vita regolare perché comunque non riesci ad organizzarti mai con i tuoi amici perché quando tu sei al lavoro loro sono liberi, quando tu sei libero loro sono al lavoro e così diciamo che i miei ultimi anni, 2 anni, da quando ho finito la scuola sono stati praticamente lavoro, casa, lavoro. Ho deciso di non fare un'università perché al momento di quando finì la scuola non avevo soldi e allora decisi di andare al lavoro per un anno per poi proseguire con gli studi a tempo debito, no? Quando avrei avuto appunto i soldi per potermelo permettere. Però così non è stato perché quando cominci a vedere i soldi i progetti cambiano. Non avendo comunque una famiglia agiata presi la scelta di continuare a lavorare. Ho continuato ma sono giunto al momento di dire basta, non è la vita che fa per me perché se a 20 anni ti devi chiudere in una fabbrica, prima secondo me devi sbattere il muso contro tutte le porte fino a quando non te ne si apre una, poi se capisci che sei una frana, vabbè, vabbè, torniamo in fabbrica. Per cui ho deciso di congiungere la mia passione con la voglia di riscatto, la voglia di vita che ho dentro, no? E qui racconterò la mia vita, racconterò i modi per poter fare quello che sto facendo io perché ragazzi si può viaggiare senza un euro, si può cercare lavoro anche senza conoscere una lingua straniera in un'altra parte del mondo, si possono fare molte conoscenze ma soprattutto ci si possono levare tanti ma tanti sfizi che in Italia io personalmente non sono riuscito a levarmi. E sono sicuro che tra di voi c'è una persona che come me ha voglia di riscatto e di fare un'esperienza magnifica e vi assicuro ragazzi che non serve avere soldi e non serve avere capacità lavorative chissà quali, quindi tutti possono farlo. Basta solamente tanta voglia di fare, tanta voglia di vivere praticamente da solo ma fondamentalmente con più amici di quanti se ne possa pensare perché le persone quando vedono un ragazzo come me, come voi che pensate un po' come me, sono molto aperte, capiscono la situazione e vogliono conoscervi perché comunque capiscono che in voi c'è qualcosa di diverso, qualcosa di importante che si differenzia dalla massa. E niente, questo video termina qui, seguitemi sui social qui sotto, ci sentiamo nei prossimi giorni e bella!